bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti sono elisa true crime e anche oggi mi siedo qui con voi e vi racconto una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata nel corso degli anni in inghilterra ci sono stati senz'altro molti serie ma nessuno di loro è conosciuto tanto quanto loro Ian Brady e Myra Hindley i cui delitti negli anni 60 hanno letteralmente scioccato l'intera nazione a rendere i loro crimini ancora più orrendi e il fatto che i resti di una delle loro vittime non siano mai stati trovati in molti hanno tentato di capire che cosa spingesse la coppia ad uccidere ma nonostante gli sforzi le motivazioni dietro le uccisioni di Ian e Myra rimangono ad oggi un mistero quello che sappiamo però è che erano dei killer spietati e sadici che prendevano di mira dei bambini oggi amici vi parlo di quelli che sono ormai conosciuti come the moore murders ovvero i delitti delle brughiere ragazzi traduce così ma prima di cominciare amici voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi quante volte vi è capitato di voler guardare un video su youtube ma non potevate perché vi usciva quella scritta pensate che questa cosa succede anche con alcuni miei video vecchi in alcuni paesi youtube li blocca ma per risolvere questo problema c'è surf shark vpn che ringrazio in quanto anche questa volta è lo sponsor del video di oggi ma oltre a questo usare un vpn ha tantissimi altri vantaggi surf shark vpn infatti nasconde la tua navigazione e così facendo nasconde il tuo indirizzo ip proteggendo la tua identità online e i tuoi dati soprattutto dai wifi pubblici che sono molto pericolosi protegge anche i tuoi account di posta elettronica e i tuoi conti bancari online e il vantaggio che io personalmente preferisco è che con surf shark vpn puoi accedere a tutti i contenuti di tutte le piattaforme di tutti i paesi come per esempio ma non solo netflix se vuoi vedere un film o un telefilm che è disponibile su netflix america ma non su netflix italia ti basta cambiare la località sul tuo vpn e voilà e tutto questo amici costa pochissimo perché con il mio codice elisa avrai non solo l'83 per cento di sconto ma anche quattro mesi totalmente gratuiti vi lascio come al solito il link sotto in descrizione prego non c'è di che e ora iniziamo col caso ian duncan stewart nasce il 2 gennaio del 1938 nei bassi fondi di glasgow in scozia sua madre peggy stewart lavora come cameriera e non guadagna abbastanza soldi per poter mantenere sia lei sia suo figlio inoltre fa dei turni di lavoro così tanto lunghi da dover per forza lasciare il piccolo ian da solo a casa per molto tempo dopo poco infatti peggy si rende conto che la cosa non poteva funzionare non avrebbe mai potuto crescere un figlio in quelle condizioni peggy una madre single il padre di ian non si sa bene chi sia non si conosce il suo nome ma in ogni caso secondo peggy era morto circa tre mesi prima della nascita di ian quindi non c'era più peggy di conseguenza prende la decisione di dare suo figlio in adozione quando ha soli quattro mesi ian viene adottato dalla famiglia sloan che lo cresce come se fosse figlio loro peggy però continua a visitarlo regolarmente non gli dice di essere sua madre ma ogni volta che può gli porta dei regali ricoprendolo di attenzioni e di amore ian quindi viene cresciuto comunque in una famiglia sana e amorevole i suoi genitori adottivi li vogliono bene e la sua vera madre come abbiamo visto è presente nella sua vita e gli dimostra molto affetto ma nonostante questo ian crescendo diventa un bambino difficile molto solitario con serie difficoltà nel farsi degli amici faceva spesso i capricci faceva delle vere e proprie scenate che spesso terminavano con lui che sbatteva violentemente la testa contro il muro ripetutamente peggy non aveva mai detto a ian di essere la sua madre biologica ma ian chiaramente dopo un po' lo capisce da solo questa donna andava sempre a trovarlo gli portava sempre dei regali si preoccupava per lui si comportava come una madre questa nuova consapevolezza ovvero che gli slow non fossero la sua vera famiglia lo scuote lo fa sentire confuso e solo e questi sentimenti vengono esacerbati dagli altri bambini del vicinato che iniziano a prenderlo in giro per il fatto di essere stato adottato dai bassi fondi quindi iniziano proprio a trattarlo come un reietto all'età di 11 anni ian viene iscritto alla showlands academy che è una prestigiosa scuola media di glasgow e i suoi voti sono ottimi ian è un bambino molto intelligente che eccelle negli studi peccato però che perde interesse molto in fretta di conseguenza inizia a farsi bocciare in tutte le materie inizia anche a fumare e a sviluppare un interesse un'attrazione verso il nazismo inizia a chiedere ai suoi compagni di scuola di chiedere ai loro padri che avevano fatto la guerra contro i nazisti di procurargli dei souvenir qualcosa di quel periodo inoltre quando con i suoi compagnetti di scuola giocava a fare la guerra lui voleva sempre fare la parte del soldato nazista in quel periodo infatti inizia a spargersi la voce nella scuola che ian fosse una persona perversa un sadico che faceva cose come bullizzare i bambini più piccoli e maltrattare gli animali in modi violenti e grotteschi anche se c'è da dire che ian ha sempre smentito queste accuse dicendo che non è mai stato un fan degli esseri umani è vero ma è sempre stato un amante degli animali e non ha mai fatto del male a nessun animale in vita sua durante gli anni dell'adolescenza il suo comportamento peggiora ulteriormente inizia ad introdursi nelle case delle persone per saccheggiarle e dopo essere stato beccato il tribunale dei minorenni gli fa una sorta di ordinanza restrittiva per cui non sarebbe più potuto tornare a glasgow di conseguenza questa ordinanza restrittiva nel novembre del 1954 ian è costretto a lasciare glasgow a lasciare la sua famiglia gli sloan e decide di trasferirsi insieme alla sua madre biologica peggy che nel frattempo si era trasferita a manchester e aveva sposato un uomo irlandese di nome patrick brady ian che a questo punto aveva 16 anni non andava per nulla d'accordo con quest'uomo col nuovo marito di sua madre ma per qualche motivo sceglie comunque di prendere il suo cognome quindi il suo nome diventa ian brady il suo essere uno scozzese in inghilterra intensifica il suo senso di isolamento che inizia a sfogare in modi sempre più ostili oltre che per il nazismo ian inizia a sviluppare un interesse verso lo scrittore il marchese de sade un nobile francese che era scrittore filosofo poeta e tante altre cose noto per le sue opere in cui mixava idee filosofiche con violenza sadismo e sesso il suo nome infatti sade è quello che ha dato poi origine alla parola sadismo cioè il piacere di causare dolore e sofferenza ian si appassiona anche al filosofo nice in particolare al suo concetto di oltre uomo e di super uomo un noto criminologo il professor david wilson ha dichiarato testuali parole sulla personalità di ian l'interesse di ian verso il nazismo funziona per lui su molti fronti prima di tutto hitler era il padre delle masse e ian è un ragazzo senza un padre inoltre a ian piaceva scioccare le persone impressionarle costantemente ed è comunque una cosa scioccante che qualcuno possa provare ammirazione verso i nazisti per questo ci teneva ad ostentare questa cosa quindi è come se ian si facesse scudo di questi elementi no come se l'essere il ragazzino diverso fosse un po' la sua forza tutti i suoi coetanei si vestivano in un modo lui si vestiva in modo diverso tutti ascoltavano musica rock in quel periodo allora lui si vantava di ascoltare musica classica era come se fosse il suo meccanismo di difesa l'adolescente ian era attratto da tutti quegli autori che enfatizzavano la crudeltà la tortura il sadomasochismo e i suoi interessi diventano sempre più disturbanti man mano che cresce esacerbati anche dal suo lavoretto part time aveva iniziato a lavorare part time in una macelleria per cui passava molte ore al giorno tagliando la carne maneggiando carcasse di animali morti purtroppo per lui i soldi che guadagnava da questo lavoretto non erano abbastanza per mantenere il suo stile di vita perché ian piaceva molto bere e anche giocare d'azzardo per arrotondare allora ricomincia a compiere reati minori come rubare o saccheggiare case questo però finché non viene preso dalla polizia e arrestato rimane in prigione fino al 1957 e una volta rilasciato fa diversi lavoretti qua e là tutte cose però precarie ma dopo un po' viene assunto con un contratto un po' più stabile come impiegato in un'azienda di oli e sostanze chimiche a Manchester ed è proprio in questa azienda che nel gennaio del 1961 ian incontra per la prima volta la diciottenne mayra hindley che lavorava come dattilografa proprio per quell'azienda lì mayra si prende subito una cotta per ian lo trova subito attraente interessante ma lui invece ci mette un anno intero prima di interessarsi a lei e prima di ricambiare i suoi sentimenti mayra hindley nasce il 23 luglio del 1942 a Manchester dai genitori nelly e bob hindley e anche una sorella minore di nome maureen suo papà bob ha combattuto nella seconda guerra mondiale quindi è stato assente per i primi anni di vita di mayra e quando è tornato dalla guerra come spesso accade non è mai più stato lo stesso aveva iniziato infatti a bere molto ad avere episodi di violenza in cui litigava ferocemente con sua moglie la madre di mayra e durante questi litigi le metteva anche spesso e volentieri le mani addosso a causa di queste dinamiche tossiche nella sua famiglia mayra inizia a passare la maggior parte del suo tempo con sua nonna helen a cui è molto legata e che la cresce come se fosse sua figlia mayra inevitabilmente però respira questo clima cresce guardando i suoi genitori litigare continuamente guardando suo padre picchiare sua madre e già da una giovanissima età sviluppa la consapevolezza che sua madre non riusciva a difendersi da suo padre perché era debole e si ripromette che mai sarebbe stata debole così come sua madre infatti quando a scuola ad un certo punto all'età di soli sei anni un bambino l'aveva bullizzata e presa in giro mayra gli aveva tirato un pugno dritto in faccia e l'aveva steso e quando era andata a raccontare la cosa a suo padre lui invece che spiegarle che la violenza è sbagliata in tutte le sue forme le aveva detto che era fiero di lei e per molte persone infatti quello è stato un momento catartico per mayra il momento in cui ha iniziato ad associare la violenza fisica all'accettazione e all'amore mayra va a scuola ed eccelle negli studi ma ad un certo punto succede nella sua vita qualcosa che la sconvolge talmente tanto da farle abbandonare gli studi all'età di 15 anni infatti un amico con cui era molto legata muore accidentalmente annegando mayra è talmente traumatizzata dalla cosa da lasciare la scuola e quell'episodio la fa anche convertire al cattolicesimo diventa una persona molto religiosa secondo alcuni infatti prima di incontrare Ian mayra era una brava persona alcuni pensano che sia stato lui a portarla sulla cattiva strada anche se vabbè poi deciderete voi a cosa credere il suo essere religiosa però andava contro tutti i pensieri di Ian che era un cinico e completamente ateo che infatti la indottrina molto in fretta con tutti i suoi ragionamenti e pensieri estremi sulla vita, sulla morte, sulla politica al loro primo appuntamento l'aveva portata al cinema a vedere il film vincitori e vinti che è un film che parla di quattro giudici tedeschi che hanno prestato servizio durante il regime nazista che devono rispondere dei loro crimini contro l'umanità davanti a un tribunale militare un filmetto leggero insomma perfetto per un primo appuntamento Ian fa anche leggere a mayra tutti i suoi libri preferiti i romanzi deviati del Marchese de Sade che abbiamo visto prima ma anche tutti i libri scritti da Adolf Hitler e Mayra invece di essere turbata dalla personalità estremamente perversa di Ian ne è affascinata ed è proprio come stregata da lui pende dalle sue labbra è completamente sotto il suo controllo inizia anche a vestirsi come piace a lui si tinge i capelli dal suo castano naturale li decolora in un biondo platino e inizia anche a cotonarli tantissimo la famiglia di lei è sconvolta nel vedere il cambiamento drastico di Mayra sia nell'apparenza sia nel suo carattere la Mayra che conoscevano non esisteva più aveva smesso completamente di andare in chiesa ed era anche diventata estremamente ostile sia con loro, con la sua famiglia sia con i bambini cosa che non era proprio da lei Mayra aveva sempre amato i bambini era una di quelle persone che sono fatte per stare vicino ai bambini sapete quelle persone che ci sanno proprio fare con i più piccoli ma improvvisamente diceva di disprezzarli e disprezzava anche l'idea del matrimonio mentre fino a poco tempo prima invece sognava di sposarsi e avere una famiglia e questo perché Ian disprezzava il matrimonio e i bambini e Mayra ormai era completamente succube di questa persona Ian capisce subito di avere una certa influenza su di lei e quindi pian piano prova a spingersi sempre un po' più in là inizia a pretendere da lei cose sempre un po' più estreme quasi per testarla le dice per esempio che secondo lui l'omicidio e lo stupro erano il piacere supremo e lei gli dà ragione è completamente soggiogata Ian capisce quindi che avrebbe davvero fatto qualsiasi cosa per lui e insieme a lui addirittura uccidere e la mia impressione è che Mayra facesse e dicesse tutto quello che voleva Ian, qualsiasi cosa fosse solo perché voleva essere amata da lui come se fosse, non so, un pezzo di pongo malleabile che si adatta a qualsiasi cosa qualsiasi cosa Ian dicesse Mayra la ripeteva da quello che si sa sembrava completamente invertebrata e probabilmente forse chi lo sa non lo sapremo mai ma probabilmente all'inizio non pensava che le parole di Ian sarebbero poi diventate dei fatti probabilmente pensava che parlare di morte, di stupro facesse solo parte del suo personaggio un po' dark no? ma che fossero comunque solo parole solo fantasie ma purtroppo non è così perché queste fantasie si trasformano molto presto in realtà Ian confida a Mayra di voler effettivamente uccidere qualcuno dopo aver letto un libro in particolare di nome Compulsion in questo libro i due protagonisti sono due ragazzi molto ricchi che decidono di uccidere un ragazzino di 14 anni per il semplice fatto di poterlo fare i due si reputavano due persone talmente intelligenti e superiori a tutto da essere convinti di poter compiere il delitto perfetto spoiler alert non erano così intelligenti e vengono comunque beccati ma Ian dopo aver letto questo libro lo fa leggere anche a Mayra e dopo le dice dobbiamo farlo voglio compiere il delitto perfetto proprio come nel libro l'unica differenza sarà che a noi non beccheranno mai e Mayra come al solito acconsente e insieme iniziano ad organizzare tutto passavano molte delle loro giornate in questa bellissima landa sconfinata di nome Saddleworth Moors una brughiera appunto che in inglese si traduce more che sarebbero appunto dei campi di un terreno particolare molto argilloso all'inizio la coppia andava lì per passare il tempo a parlare a bere in questo posto appunto enorme in mezzo al nulla lontano da tutto anche perché fin da piccolo Ian ha sempre avuto una passione una fascinazione verso gli spazi aperti molto grandi ma ad un certo punto capiscono anche che quello sarebbe stato un posto perfetto in cui nascondere i corpi delle loro vittime la prima di queste vittime è una ragazza di 16 anni di nome Pauline Reed il 12 giugno del 1963 Pauline è a casa sua si sta preparando per andare ad un ballo organizzato proprio vicino casa a Gorton che è un'area di Manchester Pauline indossa un vestito rosa un capotto azzurro e delle scarpe col tacco bianche nuove che aveva comprato apposta per l'occasione e indossava anche una collanina d'oro che sua madre le aveva prestato per l'evento sua madre tra l'altro non voleva neanche che andasse all'inizio perché Pauline in principio doveva andare insieme ad un'amica che però le aveva dato buca un po' all'ultimo sua madre quindi era un po' preoccupata nel lasciarla andare a questo ballo da sola sapendo che comunque avrebbero servito dell'alcol ma alla fine Pauline era riuscita a convincerla la madre allora l'aveva accompagnata giù in strada e aveva camminato per un pezzo insieme a lei dopodiché Pauline aveva proseguito da sola aveva salutato sua madre con la mano ed era sparita dietro l'angolo lungo la strada Pauline viene fermata da una donna in una macchina era Mayra Pauline conosceva Mayra nel senso che era andata a scuola insieme a sua sorella minore Maureen e non abitavano neanche molto lontane Mayra ferma Pauline e le dice di aver bisogno del suo aiuto perché aveva perso un guanto in questa landa di cui vi ho parlato prima Saddleworth Moore e le spiega che questo era un guanto speciale molto caro e che aveva bisogno di aiuto per ritrovarlo la ragazza Pauline decide di aiutarla si fida di questa donna perché non avrebbe dovuto alla fine la conosceva quindi sale in macchina e Mayra guida fino alle lande di Saddleworth Ian nel frattempo si trovava dietro di loro e le seguiva in sella alla sua moto vedete Ian era rimasto lì tutto il tempo a pochi metri di distanza da Mayra il loro piano era questo praticamente Mayra stava in macchina e Ian supervisionava il tutto poco più in là e quando vedeva una ragazza che gli interessava faceva i fari due volte dalla sua moto così che Mayra capisse che quella era la vittima da adescare perché nessuno avrebbe sospettato di una donna da sola che chiedeva aiuto comunque arrivate nella landa Mayra ferma la macchina e lì ad aspettarle c'era già Ian che le aveva superate nel tragitto Ian spiega a Pauline che anche lui era lì per aiutare Mayra a cercare il suo guanto dopodiché insieme a Pauline si incammina nel mezzo di questa landa e Mayra invece torna indietro e si chiude dentro l'auto Ian una volta arrivato abbastanza distante dalla strada prende la povera Pauline e l'aggredisce la violenta brutalmente e poi le spacca il craneo con una pala successivamente le taglia la gola con un coltello con così tanta forza da averla quasi decapitata e qua abbiamo versioni diverse su quello che è successo veramente perché secondo Ian Mayra era lì presente durante tutta l'aggressione e non solo aveva visto tutto ma lo aveva anche aiutato sia a torturare la giovane che poi a seppellire il corpo secondo Ian Mayra aveva proprio infierito sulla ragazza le aveva strappato la catenina d'oro di sua madre dal collo e le aveva urlato in faccia che tanto quella non le sarebbe servita dove stava andando Mayra invece sostiene di essere rimasta chiusa in macchina per tutto il tempo e di non aver visto né tantomeno fatto nulla una cosa era certa dopo poco tempo entrambi decidono che era tempo di trovare un'altra vittima e di ripetere quell'orrore questa volta la vittima è un bambino di 12 anni di nome John Kilbride che la coppia adesca lo stesso anno il 23 novembre la madre di John Sheila Kilbride racconta che quel giorno John stava tormentando i suoi fratelli e sorelle era il più piccolo di sette fratelli e sorelle perché si annoiava voleva fare qualcosa voleva giocare con loro allora sua madre Sheila gli aveva detto John per favore vai a farti un giro vai al cinema e smetti di dare fastidio ai tuoi fratelli chiaramente nell'area si era parlato molto della scomparsa di Pauline Reed quindi Sheila aveva anche detto a suo figlio John mi raccomando non scordarti che chiunque abbia fatto sparire Pauline si trova solo a una fermata di treno di distanza da qui quindi stai attento e non dare confidenza a nessuno John le aveva sorriso l'aveva salutata ed era uscito era andato al cinema e poi dopo invece di tornare a casa era passato dal mercato locale l'Ashton Market John andava spesso lì lo conoscevano tutti e aiutava spesso i venditori trasportando merce scatoloni in cambio di qualche soldo sua madre in realtà non sapeva questa cosa John lo faceva di nascosto da lei appunto per guadagnare qualche soldino extra anche Myra e Ian però si trovavano all'Ashton Market e dopo aver parcheggiato la loro auto avevano iniziato a cercare la loro nuova vittima e quando avevano visto John da solo sapevano di averla trovata Myra si avvicina al ragazzino e gli dice che era troppo giovane per starsene fuori tutto solo gli mente dicendo che anche lei aveva un figlio della sua età e che da mamma si sarebbe preoccupata tantissimo nel sapere che suo figlio era fuori tutto da solo così tardi offre quindi a John un passaggio gli dice vieni con me ti accompagno a casa tua madre sarà sicuramente in pensiero e John accetta sua madre gli aveva sì detto di stare attento di non dare confidenza a nessuno ma non aveva specificato di stare attento anche alle donne ai tempi si era molto più ingenui quando si pensava a qualcuno di pericoloso che avrebbe fatto del male ad un bambino non si pensava certo ad una donna una donna non avrebbe mai fatto del male a un bambino giusto poi questa donna raccontava di essere una mamma insomma John non ha avuto nessun dubbio era sicuro di potersi fidare e sale sulla sua macchina come al solito Ian era poco lontano da loro che osservava il tutto in sella alla sua moto una volta che Mayra e il piccolo John sono in macchina però Mayra tira fuori di nuovo la scusa del guanto proprio come con Pauline Reed gli dice di aver perso un guanto molto costoso e gli chiede se per caso prima di accompagnarlo a casa avrebbe potuto aiutarla a trovarlo John accetta e Mayra quindi inizia a guidare verso la landa verso Saddleworth More una volta arrivati lì trovano Ian che li aspettava e come con Pauline Ian prende il piccolo John e insieme si allontanano nel mezzo di questa landa per cercare il famoso guanto Mayra racconta successivamente che anche questa volta lei era tornata in macchina e non aveva visto nulla di quello che Ian aveva fatto a John racconta che lei era rimasta in macchina per circa 30 minuti dopodiché aveva fatto i fari tre volte per segnalare a Ian che era il momento di andare via Ian aveva risposto facendo luce con una torcia e dopo era tornato alla macchina da solo senza John ma reggendo in mano una scarpa e un laccio di questa scarpa Ian aveva violentato il piccolo John ripetutamente e dopo aveva tentato di pugnalarlo ma la lama del coltello a quanto pare non era abbastanza affilata e non c'era riuscito quindi aveva tolto un laccio da una scarpa e lo aveva strangato con quello e dopo aveva seppellito il corpo la vittima successiva è Keith Bennett un altro ragazzino di 12 anni Keith era il figlio maggiore di sua mamma Winnie Johnson che racconta che quel giorno il 16 giugno del 1964 Keith stava andando a trovare sua nonna a Cholton un'area sempre di Manchester non si sarebbero visti fino al mattino dopo perché Keith avrebbe dormito lì da sua nonna quindi Winnie gli aveva dato un bacio gli aveva detto ci vediamo domani mattina comportati bene con la nonna e poi però purtroppo non l'aveva mai più rivisto Myra e Ian nel frattempo si trovano entrambi a bordo di un piccolo furgoncino e guidano per le strade in cerca della prossima vittima quando ad un certo punto vedono Keith da solo che camminava la coppia allora si ferma accosta a fianco al ragazzino e Myra lo convince a salire sul loro veicolo perché gli dice che avevano bisogno di aiuto per sollevare delle scatole e Keith accetta di aiutarli una volta salito sul furgoncino Myra gli propina di nuovo la stessa storia del guanto perso nella brughiera di Saddleworth gli chiede se poteva aiutarla appunto a ritrovarlo e Keith di nuovo accetta una volta arrivati alla brughiera Ian aveva preso il piccolo Keith l'aveva portato in mezzo alla landa e gli aveva fatto violenza e successivamente lo aveva strangolato con una corda e poi aveva seppellito anche il suo corpo la vittima successiva viene adescata dai due solo pochi mesi dopo il 26 dicembre Ian e Myra scelgono una bambina di 10 anni di nome Leslie Ann Downey la mamma di Leslie di nome Ann West racconta che Leslie era la bambina perfetta era bellissima ubbidiente dolce volenterosa era la bambina che ogni genitore desidera quel giorno Leslie aveva chiesto a sua mamma se poteva andare alle giostre insieme alla vicina di casa e alle sue figlie e la madre le aveva detto va bene basta che torni a casa in tempo per il tè Ian e Myra nel frattempo erano andati in un supermercato a comprare delle cose e poi avevano deciso anche loro di andare in questo Luna Park quale posto migliore per adescare dei bambini se non in Luna Park no? quando avevano visto la piccola Leslie da sola si erano avvicinati e avevano lasciato cadere per terra la loro busta del supermercato facendo cadere tutte le cose che c'erano dentro Leslie allora li aveva aiutati a raccoglierle e Myra a quel punto le chiede se poteva aiutarli a portare le buste fino alla loro macchina Leslie lo fa e una volta alla macchina le chiedono se poteva aiutarli a portare le buste fino a casa loro e Leslie accetta questa volta però non la portano alla Landa di Saddleworth la portano a casa loro una volta lì la spogliano la legano la imbavagliano e Ian inizia a violentarla Myra nel frattempo si premura di registrare il tutto e anche di scattare diverse fotografie della povera bambina in quello stato nelle registrazioni si può sentire la piccola Leslie che piange urla prega implora la coppia di lasciarla andare dice lasciatemi tornare da mamma e papà io non vi conosco non dirò a nessuno quello che è successo lasciatemi solo tornare da mia mamma e papà ma purtroppo le sue urla sono inutili perché dopo le violenze Ian la uccide e seppellisce il suo corpo come sempre nella Landa di Saddleworth passa un intero anno prima che la coppia decida di adescare una nuova vittima e questa volta si tratta di Edward Evans un ragazzo di 17 anni che incontrano il 6 ottobre del 1965 alla stazione centrale di Manchester Ian e Edward iniziano a parlare a chiacchierare e dopo un po' Ian lo invita ad andare a casa loro per bere qualcosa insieme e Edward accetta una volta arrivati a casa della coppia Ian e Myra decidono di invitare anche il marito della sorella di Myra un ragazzo di 18 anni di nome David Smith e la motivazione di questa cosa è che Myra e Ian speravano di riuscire a convincere David ad aiutarli nell'uccisione del povero Edward e anche nell'uccisione delle loro vittime successive volevano tipo che diventasse il loro aiutante quindi David arriva a casa loro e non sapeva ancora il vero motivo per cui era stato invitato lì si siede in soggiorno la coppia gli presenta questo ragazzo Edward Evans e offrono a tutti del vino ad un certo punto Ian si alza va in cucina e torna con un'ascia in mano si dirige verso Edward e con tutta la sua forza gli conficca l'ascia sulla testa uccidendolo all'istante e il tutto davanti a Mayra ovviamente e a David che rimane sconvolto dalla cosa successivamente la coppia dice a David di aiutarli a sbarazzarsi del corpo ma lui è traumatizzato si alza e scappa via David corre a casa da sua moglie Maureen la sorella di Mayra e le racconta tutto e poi insieme si dirigono verso una cabina telefonica in strada e telefonano alle autorità denunciando tutto l'accaduto dicendo che c'era appunto stato un omicidio a casa di Ian Brady e Mayra Hindley e che oltre a quello ce ne erano stati molti altri e tra l'altro in Inghilterra per qualche motivo si era poi diffusa la convinzione che David Smith fosse in qualche modo coinvolto negli omicidi che fosse tipo il terzo killer e per questo ha ricevuto tantissimo odio e minacce da parte delle persone ma la verità è che se non fosse stato per lui chissà per quanto tempo ancora questi due avrebbero continuato ad uccidere indisturbati la mattina dopo la polizia si dirige a casa della coppia dicendogli che si trovavano lì per cercare un ragazzo di nome Edward Evans che secondo una segnalazione era stato ucciso proprio in quell'appartamento all'inizio Mayra e Ian dichiarano di essere innocenti e di non saperne nulla ma la polizia inizia perquisire la casa e ad un certo punto trovano una stanza la cui porta era chiusa a chiave capendo che ormai non c'era più molto da fare e che non ci si poteva più nascondere Ian ordina a Mayra di dare alle autorità la chiave della porta e quando la aprono all'interno ci trovano infatti il corpo senza vita e completamente insanguinato di Edward Evans chiuso dentro una grossa busta di plastica appoggiato sul divano durante la perquisizione dell'appartamento le autorità trovano anche una chiave di un deposito bagagli della stazione centrale di Manchester e quando vanno a vedere che cosa ci fosse in questo deposito all'interno ci trovano una valigia e dentro questa valigia amici c'era tutto Ian e Mayra sostenevano di essere innocenti cioè Ian aveva ammesso solo di aver ucciso Edward Evans e questo solo perché il suo corpo era stato trovato nel suo appartamento e non poteva negare ma David Smith il cognato di Mayra aveva detto alle autorità che c'erano stati altri omicidi giusto? beh la coppia negava che questo fosse vero ma dentro questa valigia le autorità trovano tantissime prove che potevano dimostrare non solo che quelle accuse fossero veritiere ma forse potevano anche risalire ai nomi delle vittime e ai loro corpi dentro la valigia trovano le fotoscene della piccola Leslie Ann Downey insieme anche alla registrazione delle sue torture e violenze c'erano anche diverse foto della coppia in posa sorridenti nella landa di Saddleworth e poi c'era anche un quaderno con sopra scritte tante cose a caso disegnini scarabocchi ma in mezzo a questi scarabocchi c'era un nome il nome di John Kilbride che era infatti una delle loro vittime le autorità fanno una ricerca e scoprono che infatti John Kilbride era un ragazzino che era scomparso un po' di tempo prima la madre aveva denunciato la scomparsa dicendo che John era andato al cinema e poi non era più tornato a casa ed era sicura che gli fosse successo qualcosa perché non sarebbe mai scappato di casa così guardando la foto della povera Leslie legata imbavagliata in quel modo riescono a risalire al suo nome perché anche lei era una bambina la cui madre ne aveva denunciato la scomparsa poco tempo prima e questa è la parte che più mi spezza perché contattano la madre di Leslie e dato che non avevano ancora il corpo della bambina per fargliela identificare per essere sicuri che fosse lei devono mostrare alla madre le foto che avevano trovato di sua figlia ridotta in quello stato e non solo le devono far ascoltare anche quella registrazione in cui Leslie urlava e chiedeva aiuto chiamando sua mamma e implorando di essere lasciata andare vabbè scusate sono un po' sensibile diceva come ti riprendi da una cosa del genere amici come ti riprendi sapendo che due persone schifose hanno fatto del male in quel modo a tua figlia non riesco come faccio a registrare così solo per divertimento perché di cosa si trattava alla fine perché lo avevano fatto per divertimento e basta comunque la madre di Leslie ovviamente riconosce subito la figlia dalla foto dalla voce era lei i detective adesso dovevano trovare i corpi di queste vittime ma Myra e Ian che nel frattempo erano ovviamente stati arrestati non cooperavano assolutamente anzi continuavano a mantenere la loro innocenza gli unici indizi che avevano erano le cose trovate dentro la valigia si concentrano quindi sulle foto in particolare le foto in cui Ian e Myra posavano sorridenti nelle lande di Saddleworth i detective sentivano che quelle foto apparentemente normali significassero in realtà qualcosa forse avevano sepolto lì i corpi sicuramente quello sarebbe stato un posto perfetto per quel genere di cose ma dove esattamente in centinaia quindi si attivano per scavare per cercare lungo questo campo che però era davvero enorme e sconfinato infatti non ottengono nessun risultato non trovano nulla c'era una foto però in particolare che i detective analizzano in questa foto c'era Myra con in braccio un cucciolo di cane accovacciata che fissava un punto preciso nel terreno e in quel punto dalla foto sembrava effettivamente che la terra fosse stata mossa era inquietante anche solo pensarlo ma e se quella foto fosse in realtà una foto di Myra sopra la tomba di uno dei bambini che avevano ucciso come se fosse un memento una foto per ricordare quel delitto le autorità iniziano le ricerche perlustrando la landa in lungo e in largo e con l'aiuto di un fotografo riescono a trovare il punto esatto di quella foto e nel punto esatto del terreno che Myra fissava nella foto amici scavando trovano il corpo di John Kilbride non c'era più molto del corpo in realtà erano rimaste praticamente solo più ossa e vestiti la madre quindi ha dovuto identificare suo figlio dai vestiti aveva cucito lei quei vestiti aveva cucito una targhetta particolare all'interno della giacca aveva cucito un bottone specifico una toppa sui pantaloni quindi sapeva che quello era il corpo di suo figlio e con lo stesso metodo di ricerca basandosi sempre sulle foto della coppia nell'ottobre del 1965 trovano anche il corpo della piccola Leslie e grazie a queste due orribili scoperte Ian e Myra vengono finalmente accusati di omicidio il processo inizia l'anno seguente il 19 aprile del 1966 entrambi si dichiarano innocenti della morte di John Kilbride Leslie e Downey e Myra si dichiara innocente anche della morte di Edward Evans anche se avevano talmente tante prove contro di loro per difendersi Myra gioca la carta della povera vittima racconta che lei non aveva fatto nulla era tutta colpa del suo fidanzato cattivo Ian che l'aveva costretta ad adescare tutte quelle vittime infatti lei non aveva mai effettivamente ucciso nessuno con le sue mani aveva sempre solo guardato anzi a volte non era neanche stata presente perché aveva preferito nascondersi in macchina lontana da Ian che invece era quello che fisicamente aveva compiuto quei crimini e Ian appoggia questa cosa all'inizio difende Myra dicendo che lei non era stata presente in nessuna occasione ma dalla registrazione del delitto della povera Leslie si sentiva chiaramente la voce di Myra che era quella che stava registrando e che aveva scattato le fotografie quindi questo dimostrava che lei era presente e come e aveva partecipato attivamente durante il processo entrambi non mostrano nessun tipo di rimorso nessuna emozione persino quando è stata fatta ascoltare quella registrazione della piccola Leslie che ripeto è una registrazione straziante che farebbe piangere anche la persona più stoica ma da parte di Myra e Ian invece non c'è stata proprio nessuna reazione la difesa ha fatto quello che poteva per appunto difendere la coppia ma la corte era convinta che sia Ian che Myra fossero colpevoli entrambi in egual misura di tutti i delitti e ad essere criticata è stata specialmente Myra che i giornali hanno iniziato a soprannominare la donna più diabolica della Gran Bretagna il processo dei Morris Murders termina il 6 maggio del 1966 quindi in tutto dura solo due settimane circa e la giuria ci mette soltanto due ore ad arrivare ad un verdetto unanime colpevoli e in realtà per la gravità delle loro azioni volevano anche condannarli alla pena di morte che però era appena stata abolita soltanto un mese prima quindi Ian che a quel punto aveva 28 anni e Myra che ne aveva 23 vengono entrambi condannati a passare tutto il resto della loro vita in prigione la maggior parte delle persone sono convinte che Myra fosse attivamente partecipe nei delitti e onestamente lo penso anche io ma non tutti la pensano così per esempio il giudice Fenton Atkinson che aveva presidiato il processo dichiara testuali parole penso fermamente che Ian Brady sia una persona malvagia senza nessuna speranza di redenzione ma non penso necessariamente la stessa cosa di Myra Hindley una volta rimossa dalla sua influenza quindi questo giudice così come altre persone sostengono che senza Ian Myra non sarebbe mai diventata così malvagia e molte persone pensano che allo stesso modo Ian se non avesse incontrato Myra non avrebbe mai dato sfogo alle sue perversioni magari sarebbero rimaste solo delle fantasie se non avesse mai trovato qualcuno che gli desse corda diciamo che adescasse le vittime per lui eccetera eccetera fino a quel momento però avevano accusato Ian e Myra solo degli omicidi di Leslie John e Edward ma in realtà ce n'erano di più infatti nel 1985 Ian confessa ad un giornalista di un giornale locale chiamato The Sunday People di aver ucciso anche Pauline Reed e Keith Bennett la polizia sospettava già che ci fosse la coppia dietro alla sparizione di Pauline e Keith perché entrambi erano scomparsi più o meno dalla stessa area di casa della coppia quindi quando Ian confessa i sospetti delle autorità vengono confermati sempre usando le fotografie della coppia trovate nella valigia riaprono un'investigazione per trovare i corpi dei due giovani ma senza successo le famiglie di Pauline e Keith erano disperate come potrete immaginare volevano solo mettere un punto a quella storia volevano dare una degna sepoltura ai loro figli ai loro cari e provare ad andare avanti la madre di Keith Bennett decide di fare un tentativo disperato e scrive una lettera a Myra pregandole di dire dove avevano seppellito il suo bambino nella lettera la madre di Keith scrive queste parole sono una donna semplice lavoro nelle cucine di un ospedale mi ci sono volute cinque settimane per riuscire a scrivere queste parole perché è davvero importante per me che tu capisca che questa lettera è una richiesta d'aiuto per favore Miss Hindley aiutami e sorprendentemente Myra è commossa da questa lettera e per la prima volta decide di aiutare le autorità e decide di mostrargli dove avevano sepolto il piccolo Keith ma ci tiene ad insistere e a sottolineare il fatto che lei non aveva fatto niente sapeva dove era sepolto ma lei non c'entrava niente aveva fatto tutto quel cattivone di Ian il 16 dicembre del 1986 quindi Myra si reca insieme alle autorità su un elicottero e insieme sorvolano le lande di Saddleworth così che potesse aiutare gli investigatori con le indagini ma questa ricerca non porta assolutamente a nulla il suo aiuto si rivela inutile e il pubblico ha anche molto criticato questa cosa sostenendo che si trattasse solo di una trovata pubblicitaria e uno spreco di soldi nel febbraio del 1987 finalmente direi Myra confessa di essere stata coinvolta in tutti quegli omicidi quello di Pauline Reed Keith Bennett John Kilbride Leslie Ann Downey ed Edward Evans non confessa però di aver ucciso con le sue mani però confessa di essere stata presente insomma di aver contribuito in qualche modo il mese seguente Myra decide nuovamente di accompagnare la polizia nelle lande di Saddleworth per tentare di nuovo di localizzare le zone in cui avevano sepolto Pauline e Keith e con il suo aiuto infatti finalmente il primo luglio riescono a trovare il corpo di Pauline le autorità hanno continuato a cercare il corpo di Keith per molto molto tempo ancora ma anche portando Ian sulla landa non sono mai riusciti a localizzare i suoi resti ancora oggi il suo corpo non è mai stato ritrovato sua madre sua madre per tutta la sua vita è andata lì nelle lande di Saddleworth per lasciare dei fiori a suo figlio per parlargli sapeva che fosse sepolto lì e andarci la faceva sentire in qualche modo più vicina a lui Ian Brady è rimasto rinchiuso in un ospedale giudiziario di massima sicurezza di nome Ashworth Hospital per tutto il resto della sua vita e lì nel 1985 gli è stato diagnosticato il disturbo psicopatico quindi ufficialmente Ian Brady era uno psicopatico ma ha sempre rifiutato ogni trattamento e anche sempre rifiutato di parlare con gli psichiatri nel 1998 Mayra ha dichiarato ad un giornalista le seguenti parole la gente pensa che io sia una persona cattiva malvagia voglio solo che le persone sappiano che io sono sempre stata la vittima che ho subito violenze e abusi per tutto il tempo da Ian Ian mi minacciava mi violentava mi bastonava e frustava ha minacciato di uccidere la mia famiglia se non avessi fatto quello che lui voleva mi ha dominata completamente per tutto il tempo Mayra dichiara anche di provare un grande rimorso per i delitti che però va in grande contrasto con i fatti con il suo atteggiamento mostrato in aula ma lei dichiara di aver addirittura pianto alla vista di un messaggio che la famiglia di Pauline aveva pubblicato sul giornale denunciando la scomparsa della figlia ai tempi eppure non aveva fatto una piega in tribunale neanche quando avevano riprodotto quella registrazione straziante della piccola Leslie per cui nemmeno i detective erano riusciti a trattenere le lacrime quindi diciamo che Mayra diceva di provare rimorso ma nessuno l'aveva mai vista esprimerlo anche Ian che all'inizio era stato il primo a difenderla con gli anni è diventato molto meno clemente parlando di lei perché col tempo lui aveva confessato tutti gli ommidi mentre lei invece aveva continuato a dare tutta la colpa a lui giusto dicendo che lui l'aveva costretta contro la sua volontà Ian dichiara che a Mayra piaceva fare la parte della vittima e creare tutto quel melodramma ma la verità era che lei era sempre stata consapevole di quello che faceva e lo aveva sempre voluto fare aveva avuto infinite possibilità di fermare Ian o di denunciarlo alla polizia ma non l'aveva mai fatto in una lettera ad un giornalista di nome Peter Gould Ian scrive testuali parole io e Mayra avevamo sempre con noi delle pistole con cui ci esercitavamo nelle lande di Saddleworth se davvero io la maltrattavo come dice avrebbe potuto spararmi in ogni momento e nessuno se ne sarebbe neanche accorto per 30 anni ha dichiarato di aver fatto quello che ha fatto per amore adesso invece racconta di aver ucciso perché io la costringevo e sostiene di avermi sempre odiato questa cosa è completamente irrazionale la personalità di Mayra è camaleontica e come un camaleonte lei si adatta a qualsiasi persona e situazione che la circonda facendo e dicendo tutto quello che pensa che l'altra persona voglia sentirsi dire vi assicuro che Mayra è capace e come di uccidere sia a sangue freddo sia in preda ad una forte rabbia ma nonostante queste dichiarazioni Mayra ha continuato a sostenere la sua innocenza fino al giorno in cui è morta all'età di 60 anni a causa di un problema respiratorio il 15 novembre del 2002 Mayra era talmente odiata da tutti che le persone locali che dovevano occuparsi dei suoi resti si sono rifiutati di farlo costringendo le autorità a trasportare il suo corpo a Cambridge che si trovava a più di 50 km di distanza alla cremazione del suo corpo erano presenti una dozzina di persone ma nessuno della sua famiglia si è mai presentato poco prima della sua morte Mayra aveva consegnato alle autorità alcune pagine sue private che attestavano e raccontavano di tutti gli abusi che aveva subito da Ian aveva scritto che oltre a picchiarla appunto la minacciava costantemente usando varie armi come un coltello un fucile su queste pagine aveva anche scritto non potevo andare dalla polizia perché non c'erano prove di questi abusi e avevo paura e nonostante lo odiassi ero anche ossessionata da lui e non sono mai riuscita a cambiare questi miei sentimenti ecco e secondo me quest'ultima frase spiega tutto non ho dubbi che Ian la torturasse le facesse del male perché se ricordate Ian era un sadico significa che il ricevere e l'infliggere dolore lo eccitava quindi non ho dubbi che lo facesse con la sua partner ma la verità è che a lei secondo me in un modo molto perverso e disturbato piaceva in un modo che noi non possiamo capire perché va oltre la classica relazione tossica con cui io riesco ad immedesimarmi io credo davvero che quello che Ian ha detto su Mayra sia vero che Mayra fosse come un camaleonte che si adattava alle cose che le stavano attorno per questo l'ho definita invertebrata ad un certo punto nel video perché un po' come un lombrico si piegava e si adattava alle superfici attorno a lei penso davvero che fosse ossessionata da Ian e che avrebbe fatto di tutto per piacergli per farsi amare da lui persino aiutarlo a violare e uccidere dei bambini innocenti e penso che sia questo il motivo per cui la gente nel tempo sembra aver odiato più Mayra che Ian alcuni pensano che sia semplicemente perché era una donna ma io penso che il motivo sia più complesso di così Ian Brady era uno psicopatico diagnosticato quindi era malato e sapete l'essere umano tende a voler sempre trovare un senso nelle tragedie quando leggiamo di questi mostri cerchiamo sempre un motivo no? Abe ha avuto una brutta infanzia Abe gli è successa questa cosa traumatica in passato in questo caso Abe era malato la psicopatia secondo la definizione più comune e concisa che ho trovato online è un disturbo della personalità caratterizzato da un comportamento antisociale deficit di empatia e di rimorso ma ci sarebbe davvero un mondo da dire su questo disturbo questo è per dirvelo in due parole la persona psicopatica comunque non riesce a provare empatia quindi non riesce ad immedesimarsi nell'altro e non prova rimorso o pentimento non ne è proprio capace per questo vediamo spesso questo disturbo nei serial killer per esempio invece Mayra non lo era a Mayra non è mai stato diagnosticato nessun disturbo e chiaramente con questo non sto giustificando Ian penso sia chiaro ma vabbè non si sa mai lo specifico penso semplicemente che la gente odi molto di più Mayra di Ian perché guardandola non si riesce a trovare un senso in quello che ha fatto e questa cosa è molto spaventosa non pensate e questo è secondo me la gente odia Mayra più di Ian perché li spaventa di più perché quello che non si capisce spaventa Ian muore all'età di 79 anni nella stanza 35 dell'ospedale giudiziario Ashworth il 15 maggio del 2017 prima della sua morte ha detto al suo avvocato Robin Makin che al suo funerale avrebbe voluto che suonassero la sua sinfonia preferita del suo compositore francese preferito ma la corte ha negato per ovvi motivi questa cosa anzi è stato deciso che non ci sarebbe proprio stato nessun funerale per lui i suoi resti sono stati cremati in modo discreto e senza nessuna cerimonia Ian Brady e Mayra Henley sono forse i più famosi serial killer di Inghilterra e questa reputazione è dovuta senza dubbio alla brutalità dei delitti commessi ma anche alle loro foto segnaletiche inquietanti che hanno sicuramente amplificato la cosa avranno anche passato tutto il resto della loro vita in prigione ma come la madre della piccola Leslie Ann Downey ha detto una volta sono state lei e le famiglie delle altre vittime le persone davvero punite per i loro crimini la famiglia che più è stata tormentata dall'esistenza di questi due mostri è sicuramente quella di Keith Bennett il ragazzino i cui resti non sono mai stati ritrovati come ho già detto per tutto il resto della sua vita la mamma si è recata nelle lande di Saddleworth per sentirsi più vicina a lui e poi è mancata nell'agosto del 2012 è morta senza mai ottenere risposte a tutte le sue interminabili domande senza mai poter dare una degna sepoltura al suo bambino come ho già detto in molti hanno tentato di capire quali fossero le motivazioni che spingessero la coppia ad uccidere o a scegliere proprio dei bambini ma Ian e Mayra non hanno mai dato una risposta chiara a questa domanda è difficile accettarlo ma come abbiamo visto nel corso del video penso davvero che l'unica motivazione per loro fosse il piacere Ian provava piacere nel fare quello che ha fatto e Mayra provava piacere nel compiacere Ian non penso ci fosse niente più di questo amici queste sono tutte le informazioni che ho su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già lasciatemi un commento come al solito questo è stato un video per me particolarmente pesante come al solito amici io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao